Il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene, acronimo MAPP, inaugurato nel 2010, si trova nella parte del loggiato al secondo piano del Palazzo Milesi a Gromo, in provincia di Bergamo. Mediante affreschi e pergamene, documenta come si forgiavano e commerciavano le armi bianche nel 1400 e 1500, prodotte nelle fucine presenti nel borgo, un tempo chiamato la Piccola Toledo. Il museo è aperto nei pomeriggi di ogni fine settimana e nel periodo estivo, tutti i giorni, con ingresso gratuito. Durante la ristrutturazione del Palazzo Milesi negli anni 1990, al secondo piano, vennero alla luce gli affreschi secenteschi sulle pareti di due sale, affreschi coperti nei primi anni del 1900 dall'allora proprietario del Palazzo, Valerio Milesi, perché scoloriti e deteriorati dal tempo. Prima di coprire questi affreschi, però, li fece ricopiare, su fogli in lucido, da uno studente dell'Accademia di Brera, di Milano, e dalle sue sorelle. Poi il restauro degli affreschi e il ricco archivio di pergamene del fondo donazione Valerio Milesi hanno permesso l'allestimento del museo, nonché una ricerca storica. Il museo è composto quindi da due sale. In entrambe sono esposti nelle teche pergamene registri datati tra il 1323 e il 1800, di cui molti provenienti dalla donazione, come detto, di Valerio Milesi, che il proprietario del Palazzo aveva ceduto all'amministrazione comunale. La sala delle armi, così chiamata perché i suoi affreschi raccontano qual'era la qualità, la forma e le varie caratteristiche delle armi bianche che venivano prodotte a gromo e a quali mercanti erano dirette. Vi si alternano varie immagini, il venditore e il compratore. L'immagine del moro è sicuramente la più sorprendente, testimonianza vera che il mercato del 1400 aveva grandi orizzonti. Nella sala delle pergamene si trovano invece armi inassate, realizzate nelle fucine locali tra il 1400 e il 1500, di varie forme e dimensioni, tra cui alabarde, ronconi e picche.